Ciao a tutti, siamo qui a Bologna in occasione del XIX Congresso Internazionale dell'Accademia Italiana di Conservativa ed è anche l'occasione di Conseuro quest'anno. Io ho avuto l'onore di fare una relazione sui diretti anteriori e poi dopo nel tardo pomeriggio di giovedì ho fatto un workshop sulla stratificazione con un nuovo composito che è stato introdotto nel mercato da poco che è il mosaic. Il mosaic è un composito universale, vuol dire che è utilizzabile per tutte le soluzioni posteriori, diretti anteriori e ha delle caratteristiche abbastanza particolari come ad esempio il fatto di avere varie masse opache, delle masse traslucenti sia in base al valore che in base al colore. Il workshop è stato abbastanza di successo perché abbiamo avuto 250 persone, infatti sono molto contento per questo, c'è stata una dimostrazione pratica e tutti i partecipanti hanno potuto portare a casa un campione. Vi faccio un saluto da Conseuro, ciao da Gaetano Paolone.